Come si fa a deturpare un angolo di paradiso? Come si può contaminare uno dei pochi posti suggestivi della città? Come è possibile che ancora oggi, nonostante le campagne di sensibilizzazione avviate da più parti, ci sia ancora chi abbandona i rifiuti in uno scenario di bellezza incomparabile? È la riflessione che arriva dal presidente dell'associazione politico-culturale Ragusa in movimento, Mario Chiavola, dopo l'ennesima segnalazione per venuta riguardante lo stato di degrado in cui versa la diga di Santa Rosalia. Stato di degrado in questo caso indotto, si va di bene, prosegue Chiavola, perché parliamo di gente che trascorre delle ore liete proprio in questi scenari lussureggianti, magari porta tutto l'occorrente per un picnic e poi non trova nient'altro di meglio da fare se non abbandonare la spazzatura con contenitori di plastica proprio sull'erba, sotto un albero a due passi dal lago, un gesto di inciviltà assurdo e ingiustificato. Si tratta, secondo il consigliere comunale, di una questione di civiltà e di sensibilità ambientale e anche e soprattutto una questione di buona educazione che evidentemente da più parti latita. Il tutto è stato documentato con diverse foto che parlano da sole e bene fanno capire quanto sia allarmante la questione e rifiuti nella diga di Santa Rosalia. A nulla servono gli interventi di bonifica, certe volte provenienti anche da alcuni volontari. Nel giro di poco tempo si formano altre micro discariche che deturpano ulteriormente il sito. Lanciamo all'amministrazione comunale, a ferme il portavoce di Ragusa in Movimento, la proposta di verificare se è possibile realizzare in zona un impianto di videosorveglianza e in attesa di promuovere controlli e verifiche più incisive. A giugno scorso, ad intervenire in merito, fu il Movimento 5 Stelle per voce del consigliere Firincelli che denunciò come il sito fosse diventato una discarica a cielo aperto e mise in luce come un gruppo di pescatori provenienti dalla provincia di Catania e in quella circostanza si rimboccò le maniche per ripulire l'intera zona dall'immondizia di vario tipo. Grazie a tutti.